E ora vi presentiamo il nostro quarto e ultimo video. Buon divertimento e buona visione! Can't feel no pavement right under my feet. I feel my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. Sì, rifà! Uno, due, tre, via! No, scusate, è venuto proprio imbarazzante. Io mi impegno, ma se ho la memoria che è poca, figlia. Credo vanno... ma perché? Bro, 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 bro. Se potrebbe fare? Provo. Devo valutare. Parlo io? No! No! Cioè, lo soppi... No! No! Perché parlare? No! No! Vabbè, c'è un problema che mi parla. Tagliamo, tagliamo questo. No, aspetta, non fare domande scopi. e non so riuscitare, cioè. Non posso fare tutto io in quale... Quinto dois quarto cinque. Quinto. Quinto cinque... Ho le gai, eh, non posso fare tutto io in quinto. Aspetta, ma che te mi sa, vè? Io già ho mamma che meい va stunno. vorrà parlare dei vari indirizzi di... Abbiamo concluso il video divertente, noi ci siamo divertiti moltissimo, speriamo di avervi trasmesso felicità anche a voi da casa e lasciate ogni speranza a voi che entrate. Ciao! Grazie a tutti!